Il Pescara a caccia del colpo di fine anno. I Biancazzurri chiudono il 2018 con la trasferta di domani ore 15 allo stadio Arecchi contro la Saritana e cercano quella vittoria fuori casa che manca dal 19 ottobre quando violarono il picco di La Spezia. Resta quello l'unico sorriso lontano dall'adretico Cornacchia, lo stadio di casa dove il Delfino ha costruito le sue fortune stagionali con sette vittorie e appena un pareggio e una sconfitta. Con i tre punti il Pescara si garantirebbe la chiusura almeno al terzo posto in classifica o anche il secondo in caso di scivolone del Brescia a Benevento. E sarebbe il modo migliore di chiudere un anno agrodolce come lo ha definito il presidente Daniele Sebastiani dove la parte migliore è arrivata nel secondo semestre dagli spetti di una inopinata retrocessione a un campionato che vede il Pescara costantemente nelle zone nobili della classifica. Il tecnico Bevi Pilon non dovrebbe stravolgere l'undici che ha superato il Venezia giovedì scorso con fermi in difesa. Davanti a Fiorillo agiranno sempre Balzano, Gravion, Scognamiglio e Del Grosso. Una novità potrebbe esserci in mediana. Palazzi o Melegoni potrebbero soffiare la maglia da titolare a Macin già in predicato di partire dalla panchina contro il Venezia. Melegoni ha dissato una buona impressione nell'ospensione contro i Lagunari e le sue quotazioni sono in rialzo. In avanti spazio al tridente Marras Mancuso Antonucci, proprio il gioiellino Scuola Roma ha sfiorato più volte il gol col Venezia e la sua prima marcatura in biancazzurro e nell'aria. Di contro il Pescara si troverà una salianitana che ha trovato quattro punti nelle due gare della nuova gestione Angelo Gregucci che ha preso il posto di Stefano Colantuono. La squadra Granata ha ritrovato solidità difensiva ma latita in zona gol e quando l'ex allenatore Colantuono ha provato a dare più qualità in avanti ha pagato Dazio. Anche Gregucci vuole ridare l'infa alla fase d'attacco ecco perché medita un 3-4-1-2 con l'impiego dal primo minuto di Alessandro Rosina, veterano sì con 35 e primavera ma in grado comunque di incidere con la sua qualità e talento. Per il resto Gregucci si riaffiderà alla difesa 3, probabile rientro dell'ex Schiavi tenuto a riposo a Cosenza con lui Migliorini e Gigliotti. Mediana con Puccino e Vitale sulle due corsie in mezzo Akpa e Ditacchio. In attacco Djuric, Jallov e Bocalon si contendono due maglie con i primi due favoriti. Direzione di gara affidata a Pilli Teri della sezione di Palermo, un solo precedente con il Pescara ed è in questa stagione la vittoria sul Foggia per 1-0. Tre direzioni lo scorso anno coi Granata, bilancio pari, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Per il Pescara sarà anche la prima gara del dopo Luca Leone. Da ieri sera l'ufficialità della separazione con i Biancazzurri e del suo avvento come neodirettore sportivo della Ternana.